prototipo numero 4 prototipo numero 5 prima messa in moto motorizzato Kawasaki Ninja 636 trazione integrale e 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